pace e bene cari fratelli e sorelle eccoci al terzo annunzio della passione di gesù nel vangelo secondo marco al capitolo 10 e la reazione a questo annuncio da parte dei discepoli che discutono sui primi posti il versetto conclusivo è diciamo il versetto centrale che illumina di senso la vita del signore e la nostra vita il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti gesù appena annunciato le radicali esigenze della sequela e i discepoli sono spaventati al che gesù si prende cura di loro e di noi e per la terza volta annuncia la sua passione morte che culminerà nella risurrezione davanti a questo annuncio che succede due dei suoi discepoli vanno da lui e gli dicono maestro vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo ecco notiamo il loro modo di approcciarsi al signore gesù deve fare quello che vogliono loro tante volte purtroppo è così anche la nostra preghiera non è umile apertura alla ricerca della volontà di dio o domanda aperta comunque al volere di dio signore ti prego per questa cosa se tua volontà ma è pretesa che dio faccia quello che si vuole gesù con tanta umiltà risponde loro bene cosa volete che io faccia per voi concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra mentre gesù parla di dono di sé i discepoli pensano alla gloria ad accapparrarsi i primi posti a discapito degli altri qual è il problema da quando siamo piccolini alimentiamo in noi una sete di grandezza che spesso degenera in sete di potere quante lotte per affermare se stessi il proprio primato sugli altri quante battaglie nel mondo nelle famiglie nelle comunità cristiane quando ci si fa prendere dalla sete di potere sugli altri quando siamo piccoli sogniamo di essere re e principesse poi le fantasie crescendo scompaiono ma la sostanza resta man mano che cresciamo lo sguardo sugli altri diventa spesso confuso magari guardiamo gli altri come avversari rivali nemici concorrenti e passiamo la vita come se fosse un'eterna gara ad aver ragione sugli altri ad affermarsi a discapito degli altri guardate la sete di potere è terribile porta ad autoalimentarsi lasciandoci sempre più assetati mentre assetiamo gli altri privandoli d'amore gesù risponde loro dicendo che non sanno quello che chiedono e domanda loro potete bere il calice che io bevo o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato chiaro questa frase implica il partecipare alla sua vita alla sua missione l'essere partecipi con lui nel dare la vita per gli altri i discepoli entusiasticamente dicono lo possiamo in fondo è vero i discepoli lo faranno qual è la cosa bella di gesù vedete gesù sta purificando quello che è il loro desiderio il loro desiderio immediato è sbagliato e la gloria umana ma profondamente quella sete di grandezza è una sete che dio ha messo nel nostro cuore ma va orientata in fondo è ciò che il signore fa con noi man mano che camminiamo con lui purifica i nostri desideri e li orienta al vero bene tante volte peccati commessi errori fatti da noi o da persone accanto a noi sono frutto della ricerca di qualcosa di buono in modo sbagliato in fondo tutti cerchiamo la felicità la vita l'amore ma tante volte lo cerchiamo dove non è o lo cerchiamo nei modi nei tempi sbagliati questo principio vale anche nel discernimento vocazionale cogliere la propria vocazione la propria missione richiede di scavare nel cuore la ricerca del desiderio più profondo che è all'origine di tanti desideri spesso parziali o limitati ecco il signore aiuta i discepoli ad andare in profondità non annulla quel desiderio di grandezza ma lo orienta al bene dirà infatti chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti vedete si passa dal diventare grandi all'essere servitori dall'essere primo all'essere schiavo di tutti il signore non annulla il desiderio di grandezza ma lo orienta veramente grande veramente vivo e chi sa servire chi dà la sua vita perché gli altri crescano fioriscano siano felici questo è entrare partecipare del dinamismo d'amore di dio dell'amore che dio ha per ciascuno di noi questa è la buona notizia di oggi miei cari come ci ha ricordato il papa la grandezza di un popolo di una nazione di una comunità di una persona si basa sempre su come serve la fragilità dei suoi fratelli e sorelle in questo troviamo uno dei frutti della vera umanità e dell'autentica santità pensate che belle le comunità le famiglie dove si vive secondo questa logica ognuno a servizio di chi accanto ognuno che persegue il vero bene dell'altro e di conseguenza anche il proprio bene un amore che circola che dà gioia al cuore mi viene in mente quella storia simpatica che vede protagonisti dei frati una persona regalò al frate portinaio un cesto di mele il frate portinaio pensò alle mele piacciono tanto al mio superiore le regalo a lui e le portò al padre superiore il superiore tutto grato e contento per il dono lo accolse con gioia e pensò però poverino il frate cuoco è malato quasi quasi le dono a lui che gli faranno sicuramente più bene e le porta al frate ammalato il frate ammalato grato al superiore per tanta generosità accolse il dono e pensò però poverino il frate giardiniere è sempre lì che lavora sotto il sole le regalerò a lui e le portò al frate giardiniere il frate giardiniere pensò ma poverino il mio confratello portinaio è sempre lì che accoglie persone le regalerò a lui e le mele tornarono al mittente alla fine condivisero ciò che era accaduto e condivisero insieme non solo la gioia ma anche le mele ecco amore che circola se vivremo così andremo di gioia in gioia e culminerà la nostra vita nella gioia dell'incontro pieno con il signore e con tutti gli angeli e santi nella gloria del cielo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti